Radio Master, il network Radio 20.0, oggi è ancora qui in Villa Burba per lo spettacolo teatrale No Body, siamo qui con il regista Carlo Compare, della compagnia Favola Folle E la prima domanda è il nome, da dove è nato il nome e chi ha dato il nome a questo bellissimo spettacolo? Allora, il nome l'abbiamo deciso noi come compagnia, noi siamo una compagnia teatrale e volevamo un nome che ricordasse Due valenze, diciamo, sia No Body nel senso di nessuno, perché queste ragazze sono nessuno, nel senso che nessuno le identifica come esseri umani individuali, come individui E anche come No Body, staccato senza corpo, nel senso che queste ragazze sono poi incontrandole, abbiamo la sensazione principale che abbiamo avuto tutti Era quella che fossero scollegate la testa col corpo e quindi ci sembrava andare davanti delle persone che non avessero un vero corpo Ecco, una domanda da persona che ama il teatro, che fa teatro, a un regista teatrale Quanto tempo ci è voluto per realizzare uno spettacolo così emozionante? Guarda, il tempo di realizzazione è stato brevissimo in realtà, è la parte prima, quella di studio, è stata molto lunga Abbiamo seguito gli operatori sulla strada, abbiamo fatto tante riunioni per capire bene il fenomeno e capire che cosa c'era da raccontare Che non raccontassero già loro queste associazioni che si occupano di tratta Una volta identificato il fuoco della cosa siamo stati abbastanza veloci nel reperire i materiali E in due mesi, diciamo, di allestimenti, di prove di allestimento abbiamo fatto tutto Molto velocemente devo dire, quindi innanzitutto bravissimi se posso dire perché è stata un'installazione molto molto bella So che siete anche in altre città, avete girato altre città e ripetendo sempre lo stesso identico spettacolo? Sì, anche se lo spettacolo non si ripete mai identico perché essendo uno spettacolo site specifico Quindi si adatta tantissimo alle situazioni che abbiamo trovato, che sono molto diverse tra di loro Però diciamo che il format è quello, i testi sono quelli, quello che trovi all'interno è quello dal 2019 Quindi 2018 in realtà, quindi sono tre anni che lo facciamo, l'abbiamo fatto in tutta la Lombardia Praticamente in quasi tutte le province E avete intenzione di portare avanti ancora lo spettacolo No Body, rivisitarlo in qualche modo, portare nuovi contenuti? Guarda, rivisitarlo no, nel senso che per noi ci abbiamo messo un po' comunque a lavorare di lima, come si dice Per cercare di trovare la quadra giusta e questo è quello che noi pensiamo di aver sintetizzato E cercheremo di portarlo avanti sicuramente il più possibile, finché ci sarà il pubblico che vuole vederlo, lo faremo Perfetto, grazie mille, io ti ringrazio per essere stati ai nostri microfoni E vi auguriamo il meglio per No Body, per Lula e per Lule, Lugliato E per tutte le altre associazioni che ci girano intorno a questo bellissimo spettacolo, grazie mille Grazie dei complimenti e grazie a voi per averci intervistato Grazie mille